Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un video particolare perché proseguono le gesta di Andes Vergang, questo ragazzino danese prodigio dell'e-sport di FIFA che ieri ha sparato il sesto 30-0 consecutivo della stagione portandosi in Weekend League su uno score di 180 vittorie e 0 sconfitte ragazzi. Veramente è un qualcosa di assurdo. Abbiamo analizzato la partita con Maestro, analizzeremo anche un altro match settimana prossima, ma oggi vi porto in un video quelle che sono le sue tattiche e le sue istruzioni, che lui solitamente non rivela in quella che è la sua streaming, ma io con un'abile mossa sono riuscito a scovare. Ringrazio il mio amico Christian Fanzi, pro player, che ci ha giocato l'altro giorno in un torneo, quindi lo aveva tra gli amici e sfruttando le amichevole offline è riuscito a scoprire quali sono le sue tattiche, perché se non lo sapete potete vedere tutte quelle che sono le tattiche dei vostri amici appunto andando in partita offline con due joystick portando il pad dal lato dell'avversario, mettendo pausa e insomma andando a curiosare. Quindi eccoci qua, andiamo a vedere subito queste tattiche, queste istruzioni, questi moduli che questo bimbo prodigio utilizza. Ovviamente disclaimer, non è che se mettiamo queste tattiche diventiamo anche noi dei fenomeni, perché il resto lo fanno le sue mani, che sono fenomenali. Quindi transizione, passiamo nella schermata in game e ci troviamo di fatti proprio sulla schermata, potete vedere in game delle formazioni. Come potete vedere, lui utilizza tantissimo il 4-4-2, quello lì con i due cc. Schema molto classico, così come lo sono le tattiche ragazzi, perché per quanto riguarda questo modulo, lui utilizza, per quanto riguarda la fase difensiva, equilibrato 5-5. E dal lato ci sta, è comprensibile, perché se l'avete visto giocare, lui praticamente ha uno stile difensivo completamente manual, quindi mi aspettavo un'impostazione di questo senso, ma pensavo avesse la difesa un po' più alta, pensavo avesse una profondità di 6-7, invece a 5, a maggior ragione, la sua abilità nel difendere alto manuale viene confermata. Per quanto riguarda l'attacco, utilizza anche qui, equilibrato 5-5, quindi molto standard, utilizza lui quelli che sono inserimenti con L1 per allargare la squadra, rientrare, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece le istruzioni di questo modulo, addirittura usa 3-3 anche su angoli e punizioni, incredibili. Abbiamo i terzini, chiaramente, resta dietro in attacco, quindi classicone. Per quanto riguarda invece gli esterni, va ad utilizzare, entra in area per il cross e i mediani, i CC, utilizza semplicemente copertura al centro, quindi non utilizza, resta dietro in questo caso, ragazzi. E utilizza anche base sugli attaccanti, quindi non inserisce e inserisce le spalle, ma va a gestire lui eventuali inserimenti con l'L1. Quindi un 4-4-2, raga, praticamente scuola all'italiana, di una banalità incredibile, proprio standardissimo, con queste istruzioni che sono, tra virgolette, un po' innovative. Passiamo invece al rombo, modulo che lui utilizza più che altro per recuperare quando si trova in una situazione di svantaggio, o che gli ho visto usare qualche volta in Weekend League, specie nelle prime partite. Utilizza in questo caso, pressing una volta persa palla, 5-7, quindi è chiaro, pressing una volta persa palla, fa in modo che i giocatori per 7 secondi, una volta persa la palla, spingano con una sorta di pressing costante, quindi è giusto che la profondità sia più alta per far sì che i giocatori siano più vicini e cercare di recuperarla immediatamente. Per quanto riguarda invece tattiche davanti, utilizza palla lunga, 4-7, angoli 4 e punizioni, deduco 3, perché tanto poco cambiava. E anche questa impostazione ci sta, perché con palla lunga la squadra si va a buttare parecchio negli spazi, anche un po' più in maniera lineare e automatica, quindi un gioco molto più propositivo. Per quanto riguarda le istruzioni, vedete che utilizza ai terzini, attacco equilibrato, e poi su quegli altri utilizza, non si vedono ma me le sono fatte dire, copertura al centro, rimani dietro al mediano, avanza ai due CC, rimani in avanti, svaria al COC e nulla alle due punte. Quindi questo è un primo modulo esotico, con tattiche altrettanto esotiche, istruzioni, bene o male canoniche. Per quanto riguarda invece modulo, tra virgolette, difensivo, abbiamo visto che dalle tattiche utilizza 4-2-3-1, ce lo andiamo a guardare a breve, eccolo qua, un secondo, eccoci qua, 4-2-3-1, quello 2, quindi quello con gli esterni. E vedete qua, per difendersi che fa, si barrica il buon ragazzino, ripiega 1-1, 1-1, quindi mette il pullman, possesso palla 1-1, regà. Con delle tattiche del genere, se non siete dei fenomeni, credetemi, andate in una difficoltà incredibile, perché difendere così basso e ripartire così basso, fidatevi, è veramente di una difficoltà importante, soprattutto con la combo ripiega più possesso palla. Quindi, boh, vi giuro, non so come faccia. Per quanto riguarda qua le istruzioni, abbiamo, vabbè, chiaramente le canoniche per quanto riguarda i terzini, le canoniche per quanto riguarda i mediani che rimangono dietro, abbiamo, invece, per quanto riguarda gli esterni, io immagino un rientra in difesa, vediamo se riusciamo a scorgerli, in questo caso, confermato anche all'altro terzino, esattamente, rientra in difesa su due esterni, resta dietro, copri al centro per quanto riguarda i mediani, credo che a questo punto, essendo un modulo tutto a trazione difensiva, anche il CEC, faccia tornare dietro, vediamo se riusciamo a vederlo, esatto, rientra in difesa, entra in area per il cross, e all'attaccante, invece, comunque non lascia nulla per avere comunque un appiglio nel momento in cui si va a difendere. Addirittura entra in area per il cross, svaria, rientra in difesa, più anche quell'altra impostazione relativa alle intercettazioni al CEC, praticamente gliele ha cambiate tutte, un pazzo furioso, e addirittura ho visto che sul portiere ha uscite sui cross, incredibile, non ha bilanciato, ma ha uscite sui cross, penso sia il primo che utilizza l'istruzione anche sul portiere, e poi dovremmo avere l'ultimo modulo, che è quello relativo al, diciamo, cercare di recuperare la partita, ovvero il 4-2-4, che andiamo a vedere subito. Quindi abbiamo i due attaccanti, praticamente nulla, ma intercettazioni aggressive, con rimani avanti a quelli che sono invece i due esterni, mi fa ridere, guardate Cristian come va a cercare proprio tutti i segreti, ok, rimani avanti, entra il cross per quelli che sono gli esterni, mi immagino partecipa all'attacco ai terzini, e mi immagino che anche quei due mediani o siano su base, gioca come attaccante addirittura anche ai DC, è incredibile, questo è proprio un modulo totale a trazione anteriore, con i due mediani che hanno anche avanza. Vediamo invece le tattiche, se riusciamo a vederle, non so se le ha bypassate ed è andato direttamente sulle istruzioni, vediamo un attimino, 4-2-4, già si vede manovra veloce, pressing costante, no, mi è andato direttamente sulle istruzioni Cristian, bypassando le tattiche, ma bene o male, io mi immagino che siano tattiche totalmente, raga, totalmente alte, sia tipo ampiezza tutto al massimo, attacco tutto al massimo, eccetera. Quello che diciamo è importante sapere è il fatto che utilizza manovra veloce in attacco e il pressing per quanto riguarda invece la fase difensiva. Pressing una volta persa palla e non pressing costante, per evitare che i giocatori si stanchino troppo, tanto il pressing costante lo si può attivare sempre con il tastierino frecciaggiù più sinistra ed è una cosa molto intelligente, quindi mettere un pressing una volta persa palla. Quindi, ragazzoni, diciamo che abbiamo svelato questo segreto, perché lui, se gli andate in chat, comando tattiche e dice io non mostro le mie tattiche, da bravo bimbo, qual è? Che poi voglio dire, dovrebbe sapere che comunque la differenza la fanno le mani. Ripeto, non è che andando a impostare queste tattiche spariamo tutti quanti 30-0 come li spara lui, perché lui è un fenomeno e un talento incredibile. Però, così, per curiosità, anche per sapere questo che fa, come si imposta le cose, secondo me è utile saperlo, utile andare a vedere, utile a cercare di rubacchiare qualche segreto, utile magari andargli a provare. Quindi ringrazio ancora il mio amico Cristian per avermi condiviso questa sua clip. Se non lo conoscete, ragazzi, andate a seguirlo su Twitch, CristianFancy10, streama solitamente nel weekend la sera, e nulla, raga. Io spero che questo video vi piaccia, fatemi sapere con un commento che ne pensate di questo fenomeno, iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo bene, mi fa strapiacere e continuiamo così. Nulla, ragazzoni. Noi ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma Viola, trovate tutte le info, come al solito, in descrizione. Io vi auguro una buona giornata. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.